L'estate 2018 è stata una stagione molto importante perché finalmente sono riuscita a produrre i miei sandali In tutte le cose ci sta buona la prima, buona la seconda però iniziamo da capo, cioè mi do un inizio E' già iniziato, come tutti voi sapete Vamo a chi devo parlare, le clienti o in generale Il modello proposto è mocassino a punta Mi sembra che l'hai vendita Io mocassino in acquisto, una moca in omaggio Sicuramente venderò per la simpatia, per la ridicolaggine Allora Ma la vedi sto scarpa No così Ah no Spacca Vabbè mi torna a volare Vabbè mi torna a volare Allora Allora